a venezia per le tue contravendite venisi immobiliare cera agenzia leader previsione del tempo per domenica 13 novembre sul veneto sarà asciutto per lo più soleggiato dappertutto cielo sereno poco nuvoloso verso sera più nubi e non si escludono dei deboli piovaschi nella notte limite delle nevicate in abbassamento a circa 1200 1500 metri temperature minime in calo sui 6 11 gradi massime intorno ai 15 18 gradi sul filone venezia giulia prevale il sole ma con nuvolosità più consistente nella seconda parte della giornata soffierà bora moderata sulla pianura e sulla costa temperature minime tra i 7 e 10 gradi massime intorno ai 14 16 gradi sul trentino alto adige bella giornata soleggiata possibili locali addensamenti ma senza conseguenze temperature minime comprese tra 5 e 7 gradi massime sui 17 e 20 gradi dal meteo è tutto arrivederci a venezia per le tue contravendite venisi immobiliare cera agenzia leader